buonasera buonasera benvenuti in un nuovo video questa sera ci vedremo una bella pescatina nella parte esterna di un'area portuale sta iniziando già la fase di tramonto vediamo se riusciamo a fare qualche bella barracuda magari qualche serra vediamo cosa gira dai andiamo a prendere posto se troviamo posto perfetto iniziamo la pescata fase di tramonto calare la luce sfondo spettacolare iniziamo con un long jerk 180 in questo caso un giugolo jerk colorazione naturale verde e argento vediamo se gira qualche barracuda o qualche serra vediamo è già calore entro un poco ma c'è corrente a sinistra poeta ma la chi dica tavola cosa sa perchè che lo mangiò domani mi faccio fare una bella frettata non ho fatto il tonnello? vieni, non ti fai, non ti fai grazie non ti fai, grazie ehi, il... va... vieni vieni ma ti fai un po' si, nico ma tu sei tu ma nico piccolo, molto piccolo penso, almeno sì baby cuda baby cuda ecco il primo giugolo jerk 180 il primo barracchio di nuovo è stato un minuto stagano proprio capillo a cosa pesca l'amma come lo pesca l'amma tu è chissà stai fermo state immagate libero tasso su giocato l'asso non rilasciare piccolino sciopello ciao continuiamo la pescata uno piccolino è uscito riusciamo a fare qualcosa di più sostanzioso il vento non vuole cavare sembrava che se ne fosse andato ma da quanto pare non ci mora vediamo vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più grazioso un vento molto fastidioso un vento molto forte Grazie a tutti. Vai, vai. La popo, Fabio. Sei più grazioso. A me. Ciao. Ma male, male, male. No, no, no. Sì, sì. Ok. Questo è già più grossetto. Ok, continuiamo la pescata. Due barracuda fatti, uno piccolino e rilasciato e uno più grazioso. Sempre con lui. Giù con lo gerchi 180. Vediamo. Vediamo se riusciamo a fare ancora qualcosa di più grazioso. Già quello è graziosino, dai. Barracuda a chilo. 100 grammi più, 100 grammi in meno, siamo là. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più grazioso, veramente. C'è quello che pizzo stava cacciando. Sì, perché c'è lo traccia a banno e 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 a banno. Ma tu illumino il mare, non è male, dico, non ci fa danno. Ne hai pigliato due? Allora, domano due. C'è, che ho provato di chissà. Eh, ho la luce accesa per fare un video, ma... C'è. Ma che ci manno o ci vuoi tu? Eh? Che ci manno o ci vuoi tu? Ehi, aiii, vai. Ti vogliate o no? Ho vogliate. C'è questo no che lo ferrà da cacciariette, oh. Andiamo, iso, iso. Ti ha pagato? Sì, ha lavato un po' miei. Il là. E siamo al terzo. E siamo a tre. Sempre lui. Giù con lo gerchio 180. Barracuda. Ok. Tre barracuda fatti. Continuiamo. Il giugolo stasera sta dando risultati. Vediamo. Vediamo se riusciamo a fare il quarto. Vediamo se riusciamo a fare il poker. Poker di barracuda. Vediamo, vediamo. Tentiamo il poker di barracuda stasera. Vediamo. 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 Cosa? No, chi ti ha passato i galleggianti? Ovviamente c'è corrente la muta Ehi, illa, vai! Sì, ho visto E siamo a passo E siamo a passo, poker Poker di barracuda Sempre giù con lo jerk, un po' accanto E allora, per stasera è stata terminata Il giugolo non ha dato tregua Giugolo, fioretta e senso, 842XH E va bene, per stasera ci siamo divertiti così È stata una bella serata Quattro barracuda, una botta a vuoto E basta, adesso ci fermiamo Non si fanno stragi Ci sono, se continuavo Almeno qualche altro lo prendevo Ma non ha senso Sono barracuda piccoli Poi mi sono divertito Già ne ho fatti quattro Uno l'ho rilasciato Tre lo è trattenuti Di cui l'ultimo lo volevo anche rilasciare Ma ho perso troppo tempo per slavarlo Perché ha lamato veramente bene E sono molto delicati Va bene così Vi auguro a tutti una buona serata E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie per la visione!